È una variante del Covid-19, finora non descritta in Italia, quella identificata ieri dal laboratorio di virologia dell'azienda ospedaliere Ospedali Riuniti di Ancona e Università Politecnica delle Marche. È stata classificata come newyorkese, essendo sequenziata proprio a New York lo scorso novembre. Nelle Marche, la variante newyorkese è emersa dai tamponi di due persone non apparentemente correlate e provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha ricordato come l'Asur abbia già prontamente adottato le misure di contenimento dei potenziali focolai e si sta continuamente monitorando la situazione. Al momento non sussistono evidenze scientifiche sull'eventuale capacità di questa variante di eludere la risposta neutralizzante suscitata dagli attuali vaccini. Una situazione da decifrare che non aiuta la pressione già alta sui nosocomi. All'ospedale di Pesaro San Salvatore Marche Nord ieri si è toccato il livello massimo consentito alle terapie intensive. 41 posti letto occupati su 41 a disposizione. Una pressione insistente anche sulla terapia semi-intensiva che costringe ora Pesaro a guardarsi intorno per ampliare gli spazi d'accoglienza dei pazienti in provincia. Uno stato di sofferenza diffuso anche agli altri ospedali marchigiani dove in totale siamo da giorni a cifre superiori ai 900 ricoverati complessivi come ricorda il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Le terapie intensive della nostra regione hanno una percentuale di occupazione molto elevata quindi la strategia sarà chiaramente stata quella della mitigazione con tutti i provvedimenti messi in campo sperando che come è successo per la provincia di Ancona che sta diminuendo il numero dei contagi questo possa avvenire anche per le altre province. Ma al netto di quelle che sono già i provvedimenti presi saranno le aziende ospedaliere che rimoduleranno e riorganizzeranno quelle che sono le loro capacità di ricezione di tutti i pazienti che si presentano quotidianamente nei pronti soccorsi sempre sperando che l'afflusso di giorno in giorno inizia a diminuire. La curva dei contagi sta flettendo dopo l'entrata delle Marche in zona rossa ma è una riduzione lenta consistente il calo nella provincia di Ancona un po' meno in quella di Pesaro Urbino dove anche oggi si sono registrati 117 casi positivi dei 632 complessivi nella regione Marche su 3.250 nuove diagnosi per un totale di 6.402 tamponi processati. Una percentuale di contagiati rispetto ai tamponi effettuati che ora si alta al 19,4% rispetto al 15,8% del giorno precedente.